Una tromba d'aria ha divelto il tetto della prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto. Il forte vento ha creato danni anche alla copertura di un plesso della scuola dell'infanzia collodi di unesalvi, due feriti lievi, una donna che si è messa a protezione della figlia e un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Brussi dove è allestito il villaggio col diretti. Alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade della città, diversi tetti hanno ceduto su via Popilia, semafori abbattuti nei pressi del carcere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e polizia, sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco per risolvere le criticità. Il centralino dei pompieri al momento è in tilt, sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati e verifiche tegole pericolanti. Al momento non ci sarebbero altri feriti.